Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe, finalmente ci siamo, ci ritroviamo all'interno della nostra versione global, o per meglio dire nella mia versione global, perché finalmente è uscita Beatrix. Vi faccio vedere subito i banner dell'evento, ovvero Roses of May, dove sarà possibile ottenere una sua 15 e l'armatura ovviamente 35 CP, visto che ancora non abbiamo la possibilità di ottenere le 90 CP qui nel global, ma cosa più interessante è questo, il suo banner. Banner dove ovviamente possiamo pullare la X di Beatrix, ovvero la Save the Queen, famosissima spada di Final Fantasy IX, che era anche ottenibile nel gioco tramite un crafting speciale, che avrebbe comunque sbloccato il finale segreto di Final Fantasy IX, e poi ovviamente personaggi come Krill, che non mi dicono niente di eccezionale, e Terra, che comunque abbiamo già maxato, quindi tecnicamente le sue armi per me sarebbero solo Power Stone. Cosa mi aspetto? Beh, a parte il fatto di magari trovare la X di Beatrix, mi aspetto tante cose, anche perché questo comunque sarà un video abbastanza particolare, dove appunto potremo analizzare tutte quante le sue armi, ma direi che dovremmo soffermarci di più sull'Ice Brand, che per l'appunto caratterizza il suo attacco Thunder Slash e Thunder Slash Plus, e poi ovviamente la X che comunque dà la possibilità di sfruttare l'attacco Klim Hazard. Livello 1, livello 2, vabbè, livello 3, sappiamo benissimo che i Limit Break solitamente aumentano la potenza, aumentano i Buff e aumentano anche il Recast, quindi diciamo che max Limit Break è caro, ovviamente la X dà sempre il suo vantaggio. Questo è un video dove non perderemo troppo tempo, anzi andiamo subito nella sezione Vocazioni, perché oggi ha reclutato Beatrix, però come potete vedere la prima Multi Summon è free. Io ancora non l'ho fatta, tra l'altro abbiamo anche a disposizione 84 ticket, e quindi non perdiamo troppo tempo, io ovviamente cercherò comunque di mutarmi, in modo tale da potermi godere anch'io queste summon, e direi di cominciare subito con la Multi Gratuita, e poi vediamo il da farsi. di cominciare subito con la Multi Gratuita, e poi vediamo il da farsi. Summon Gratuita è andata malissimo, però vabbè la cosa buona è che abbiamo preso una Power Stone, quindi non de mordo. Andiamo giù di ticket, ne faccio fuori almeno una cinquantina. per Beatrix pullo, pullo forte come si suol dire, hard pull, è difficile che io possa pullare per altri personaggi questo mese, anzi non pullerò completamente personaggi questo mese, quindi... devo... oh, la 15, ok, uno degli obiettivi che mi ero preposto era max limit breakare la 15 con i ticket, perché comunque si può fare, come potete vedere la 15 esce dai ticket, e quindi già ne abbiamo due copie così, perché una copia la otterremo con l'evento, una copia ce l'abbiamo qua, quindi buono, e quindi, when using Saint Cloth, increase Brave Gain based on Max Brave, questo è buono, party, 9 turni di HP Regen, defense, up boost, duration plus, ottimo, diciamo, ottima cosa, perché comunque lei è anche un buffer difensivo, messa in coppia con Kitesit, che è un buffer offensivo, si va a creare veramente un team molto, molto forte. Abbiamo anche 37.000 gemme, quindi, diciamo, come risorse siamo messi bene per pullare, se poi sfighiamo è un altro discorso. No, devo, devo vendere le cose nel mio inventario o venderle. No, in questo caso andiamo di potenziamento. Ovviamente queste saranno parti che vi faccio vedere adesso, insomma, qualora poi si ripresenteranno, taglierò immediatamente dal video. Non vi preoccupate. Diciamo che lo faccio anche un pochino per allungare un po' la solfa. Quindi. Ritorniamo sulle nostre vocazioni. E continuiamo. Voglio arrivare fino a più o meno 40 ticket. E magari fare un'altra multisummon. E poi finire gli altri ticket e poi magari dedicarmi solo alle multisummon. Probabilmente sentirete anche il rumore del mouse in sottofondo, ma non posso silenziarlo in nessun modo, per cui sapete benissimo che ci gioco tramite bluestacks, il global, lo gioco tramite bluestacks, quindi non posso fare altrimenti. Spero di ottenere anche copie della 15 dai ticket. Vorrei max limit breccare la 15 dai ticket. Ok, siamo a 60. Quindi altri 20. Poi tutte orba azzurra mi stanno uscendo. Attenzione. Già 15. La 35 è trovata pure. Con i ticket. Ottimo. Ottimo. Thunder Slash. Thunder Slash plus. Brave Damage boost. Noble Loyality boost. Duration plus. Ok, questi sono i buff unici che si mette lei stessa, però già la 35 trovata con i ticket è assolutamente un ottimo affare. Assolutamente un ottimo affare. Ricordiamoci che abbiamo trovato anche una 15. Quindi già sono due che abbiamo. Ne mancherebbero soltanto due per max limit breccare la sua arma. Per max limit breccare la 15 senza utilizzare le Power Stone. che ovviamente sarebbe una cosa buona e giusta. Bene, le ultime sette armi. Così arriviamo a 40 ticket. E ci facciamo una multisammon. Ecco appunto. Immaginavo. Allora, facciamo così. Veloce, veloce. Così nel frattempo allungo un pochino il brodo del video. Nel frattempo spero che ovviamente le vostre pool vadano meglio di come stanno andando le mie. Perché comunque sto effettivamente spendendo più di quello di cui mi ero preposto. Nel senso come ticket le avrei spesi tutti comunque, però magari trovando qualcosina in più. Abbiamo trovato la 15 e la 35. che non sono ovviamente cose da buttare via. Però non lo so. Forse ero un po' più fiducioso sulla free pool. Era un po' più fiducioso sulla free pool. Ma vabbè. Ci accontentiamo. Attenzione. Piccolo loading. No, niente. Ok. Questo è l'ultimo ticket e siamo arrivati a 40. Benissimo. Torniamo indietro. Multipool. Uh, attenzione. Orbo dorata. Quindi vuol dire una oro assicurata oltre la undicesima. Speriamo sia la volta buona. Mi interesserebbe comunque in fin dei conti trovare almeno un'altra 35 e la X ovviamente. Almeno da avere due e una. Poi se utilizzo le powerstone non è un problema. La X! Sì! Subito! Seconda multi. Grandissimi. Trovata la X. Trovata la X alla seconda multi. Ottimo. Ottimo. Ottimo così. Veramente ottimo. Ottimo così. Non potevo chiedere di meglio. Mi è andata benissimo. Così ho anche altre risorse da poter utilizzare in futuro. Queste non le vado assolutamente a sprecare. Abbiamo trovato un'altra 15 quindi tecnicamente me ne manca soltanto una per max limit break era la 15 senza utilizzare powerstone. La 35 l'abbiamo trovata comunque. L'abbiamo trovata comunque però sono veramente già contento così. Veramente contento. La seconda multi trovare subito la X di Beatrix per me già equivale aver vinto praticamente. Ho già fatto jackpot. Ho già fatto jackpot. Magari la fortuna fosse sempre così dalla mia parte. Mi va benissimo. Già primo pallino del limit break. vado vado a completare nel senso vado a prendere l'armatura di Beatrix e le armi eccetera eccetera e penso ci rivediamo tra poco per finire i ticket e vedere se riusciamo ad ottenere almeno un'altra 35 perché se vi faccio vedere come orb limit break ne ho 12 però ovviamente queste 12 le vorrei utilizzare per la X quindi magari trovare altre 35 potrebbe essere un investimento interessante. Vado a prendere le armature cioè vado a prendere l'armatura di Beatrix così la posso maxare e ci rivediamo penso tra poco. eccola qui Beatrix nella sua splendida forma ovviamente ho maxato subito l'armatura la X ancora devo maxarla appunto perché ho reclutato Beatrix ho fatto gli obiettivi delle altre missioni mi manca solo da fare l'evento X che poi ovviamente farò in un video a parte per cui ritorniamo sulla sezione event draw perché ho preso anche altri ticket adesso infatti siamo addirittura a 55 direi di pullare fino a quando non trovo una 15 finché non trovo la 15 così la possiamo maxare subito senza utilizzare powerstone anche se comunque da questo momento anche se dovessimo utilizzare powerstones non è un problema perché rivenderemo rivenderemo la sua arma e quindi ne riprenderemo 4 quindi tecnicamente è come se non ne avessimo usate però diciamo che la 15 dai ticket è possibilissima ottenerla per cui non vedo il perché non debba investire questi questi ticket magari me ne lascio una ventina una trentina se proprio vedo che non non riesco a trovare niente giusto per poter ricontinuare ad accumulare fino al prossimo banner interessante quindi vediamo se magari con un po' di fortuna riesco a trovare questa ultima 15 anche una 35 mi andrebbe bene comunque trovare un'altra 35 col ticket sarebbe tanta roba perché comunque mi permetterebbe di avere già un limit break utilizzare soltanto 8 powerstone recuperarne 4 che già non sarebbero affatto male allora siamo 37 ticket speriamo di i ticket sono disposto anche a farmeli fuori tutti a dire la verità sono disposto a farmeli fuori tutti però in realtà vorrei iniziare a conservare perché più in là ci saranno comunque personaggi ci saranno eventi che mi faranno spendere tanto per cui diciamo avere già una piccola base messa da parte non sarebbe male allora andiamo avanti voglio andare avanti finché non trovo una 15 o un'altra ora in generale così almeno recupero powerstone perché me ne serviranno parecchie tra l'altro tutte orbe azzurre allora mi faccio questi ultimi ah dai orbe argentata vediamo mi faccio questi ultimi due ticket e poi mi faccio allora una multisummon ecco ottimo le off banner sono sempre cosa buona e giusta quindi 21 arrivo a 20 va benissimo oh va bene dai benissimo e ci facciamo l'ultima multisummon così ritorno poi a 30.000 stone a 30.000 gemme e e posso chiuderla posso chiuderla tranquillamente spero di trovare qui 15 e 35 magari di beatrix sarebbe tanta roba ho un bel cambio però attenzione non le sto contando quindi non so quante sono comunque ne ho viste tante bene una multi proprio così vuota va bene mi faccio l'ultima questa è stata veramente brutta come multi quindi non la posso non la posso tollerare vi faccio quest'ultima multi dopodiché quello che abbiamo ci teniamo e utilizzerò le power stones per per potarmi su le armi spero di riuscire a ad alzare il più gran numero possibile di armi la 15 la faccio sicuro oh va bene solo la 15 va bene ok almeno qua non consumo power stone va bene dai me la l'accetto l'accetto facciamolo anzi insieme diciamo che lo accetto per cui poi va bene le armi di di kill le vendo assolutamente bene quindi qui andiamo a fullare anche perché non avendo trovato altre 35 di beatrix sarò costretto praticamente a fullarla così da zero quindi sono proprio 12 power stones che se ne vanno sono 12 power stones che se ne vanno benissimo la 15 l'abbiamo maxata le altre armi non mi interessano per cui le venderemo pure e vediamo a che punto arriviamo perfetto tutte queste le possiamo vendere che fanno altre 10 power stone quindi tecnicamente arriverei quasi quasi appelo nel maxare nel maxare beatrix tecnicamente mi servirebbe solo una 35 per poter maxare entrambe mi servirebbe una 35 per maxare entrambe facciamo una cosa utilizziamo anche questi ticket ormai devo provare poi i ticket che prenderemo invece dalla cop li conservo e poi continuerò a conservare perché è giusto arriveranno personaggi molto interessanti a breve per cui iniziamo di nuovo a conservare miriamo principalmente alla 35 un'altra 35 se mi uscisse un'altra 35 dai ticket sarei a posto perché maxerei praticamente entrambe le armi sia la ex che sia la ex che la 35 in un colpo solo quindi devo provarci devo provarci ovviamente non faccio multi summon perché non voglio andare oltre diciamo che voglio tenermi queste gemme me le tengo care però i ticket li voglio usare i ticket comunque si riescono si riescono a rifarmare per cui non non la vedo una cosa così grave oh la 35 perfetto perfetto benissimo benissimo quanti me ne sono rimasti pochini ormai vabbè sì però me li tengo lo stesso fanno sempre brodo fanno sempre brodo abbiamo trovato la 35 quindi va benissimo va benissimo potenziamocela subito così utilizziamo solo 8 powerstone di cui 4 le recuperiamo per cui va benissimo anche questa sblocchiamola ormai la passiva l'abbiamo presa possiamo venderla tranquillamente benissimo e adesso ci maxiamo anche la ex finalmente ci maxiamo anche la ex così non devo più pullare su questo banner oh e ci siamo completati beatrix ottimo 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 ed eccola qua finalmente maxata ecco equipaggiamo anche le passive perfetto adesso dovrò fare con gli artefatti ma questo non è assolutamente un problema comincerò a livellarla adesso comincerò pure a livellarla e poi ovviamente registrerò i video dove ve la faccio vedere e farò anche la prova ex dove ovviamente faremo vedere il massimo della sua potenza un evento che comunque il suo vi consiglio personaggi più magici che fisici anche se comunque la multiplayer potete farla benissimo con qualsiasi pg visto che il boss è debole non è resistente per cui potete farlo tranquillamente però vi consiglio personaggi più magici che fisici per magari l'evento ex quindi detto questo per il momento è tutto vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima